Sono fiero e contento di indossare una maglia così importante, sono davvero felice di essere sbarcato a Reggio Calabria. Gennaro Armeno, neo arrivato in casa regina, esprime in conferenza stampa il suo stato d'animo. Conoscevo già qualche elemento della squadra, gli altri li sto conoscendo pian piano. Siamo un buon gruppo ed avremo tutto il tempo per dimostrarlo. Non vedo l'ora che sia domenica per scendere in campo contro la Paganese. Non vedo l'ora che viene domenica perché comunque sono a disposizione del mister e quindi non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura e di dare tanto a questa maglia perché comunque ha fatto una storia alla regina e quindi sono anche orgoglioso di indossare questa maglia. Mi ha chiamato il mister, appunto è il direttore, posso parlare solo positivo del mister. Comunque è una persona che ti dà tanto in campo, in allenamento e poi è una persona sincera. E come è avvenuto il contatto? Il contatto è stato già in estate, il primo anno e il mister mi ha chiamato e detto che abbiamo buoni rapporti e mi aveva detto ti fa piacere venire e ho detto è un onore, no? Mi fa piacere. E poi all'inizio non so, forse per la società del Novare che non mi ha lasciato subito, quindi è andato avanti. Poi a gennaio che dovevo andare via, si sono fatti avanti subito. Sono arrivato che comunque già conoscevo alcuni ragazzi, poi ho conosciuto i nuovi ragazzi che non conoscevo prima e l'avvento è positivo, si lavora bene e adesso bisogna fare solo bene la domenica. Pensi di giocare domenica? No, questa no. Sono a disposizione, l'ho detto prima, mi sono allenato bene anche quando stavo a Novara, le feste di Natale, sono arrivato qua pronto, per mi trovare pronto, sono a disposizione, spero che possa dare già il mio contributo domenica. Il mio ruolo è stato mezzala dai primi anni, poi ho fatto l'esterno a destra e l'esterno a sinistra di centrocampo, quindi mi posso adattare anche terzino a sinistra. È una grande piazza, quindi mi aspetto tanto e spero di dare tanto a questa tifoseria.